Essere di che ci vanno a finire ancora, mentre ne vengono, magari per capire che è giusta un'inversione, perché la situazione mentale non è vero, non è vero perché non è vero, al compagno che si andava il testo e anche se è poco evo, non è vero, ma non è vero. non è difficile, allora ci sono passi, non parlo, per farlo, si è già, ora, mh mh mh, è solo, mh mh mh.